Ci sono la scuola elementare Leopardi e la materna Cariteo di Fuorigrotta, la materna Quarati Alvomero, Liccinevio ed il liceo Tito Lucrezio Caro di Via Manzoni, il liceo scientifico Mercalli di Chiaia, la elementare Dante Alighieri di Piazza Carlo III, tra le scuole occupate dai ex LSU ieri a Napoli. Ma la protesta si è stesa anche alla provincia coinvolgendo diversi istituti dei comuni di Pozzuoli IV e Giuliano. Migliaia di studenti rimasti dunque a casa? Stipendi dimezzati e il rischio di perdere il posto di lavoro sono alla base della protesta che coinvolge i lavoratori impiegati nelle scuole della campagna con varie mansioni. La richiesta dei manifestanti è quella di un incontro con i vertici del Ministero dell'Istruzione per discutere della loro situazione. Gli ex LSU, lavoratori socialmente utili, da molti anni sono inseriti nelle scuole occupandosi prevalentemente delle pulizie o di lavori nelle segreterie scolastiche con uno stipendio di circa 900 euro. Negli ultimi mesi a livello nazionale sono stati regolamentati i contratti. Con nuovi bandi la Consip, Società del Ministero dell'Economia e delle Finanze, ha riaffidato alle cooperative di ex LSU gli stessi impieghi ma con un ribasso degli stipendi del 50%, ovvero dalle 7 ore di lavoro al giorno si è passati alle 3 ore e 40 minuti. Le uniche regioni in Italia dove le gare sono state sospese per eccesso di ribasso sono state la Campania e la Sicilia. Dal primo marzo i lavoratori ex LSU Campania rischiano dunque di perdere il posto o comunque di percepire circa 400 euro al mese e per protesta da ieri mattina stanno occupando diverse scuole. Parlerò con il prefetto, spiega il direttore dell'ufficio scolastico della Campania, Diego Busce, che aggiunge il bando per la Campania non è andato a buon fine e quindi adesso tutte queste persone saranno senza lavoro dal primo marzo.